UN DIO Ti sto osservando da un po'. Tu sei diverso. Tutti meritano un'occasione per riscattarsi. E tu? Assolutamente. I vecchi tempi dei furti con effrazione... ...sono finiti. Che vuole che faccia? Voglio che tu commetta un furto con effrazione. Logico. Sei pronto a diventare un eroe? L'armatura ha dei poteri. Devi imparare a controllarli. E loro sono le tue più grandi alleate. Sei carina. Quando sei rimpicciolito, hai una forza sovrumana. Sei come un proiettile. Impariamo come si dà un pugno. Mi insegni a dare un pugno? Fammi vedere come... ...così si dà un pugno. Hai provato a nascondermi la tua armatura. Ora questo ti si rivolterà contro... ...e distruggerà le persone a te care. Scott, vattene da lì! Pensavi di poter fermare il futuro? Sei solo un ladro! No. Io sono Ant-Man. Lo so, non è stata una mia idea. ... ... Grazie a tutti.